Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto tappeti-tappeto Meshkin 325x140. Questi tappeti sono annodati nella città di Meshkinsar nella regione di Eriz, Persia Nord-Orientale, vicino al confine caucasico. Il formato più consueto è quello a passatoia con motivi geometrici forti di ispirazione caucasica, sovente in rosso-violaceo. Sono tappeti belli e compatti. Lavorazione, annodato a mano. Spessore circa, 8 mm. Pelo, lana. Ordito, cotone. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon E.T., clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Grazie.